ciao ragazzi oggi andiamo a fare granchio blu guardate vivo ancora dobbiamo mettere nell'acqua bollente dopo facciamo un succo altra parte ecco guarda come fanno sta morendo guardate ragazzi guarda guarda quando va nell'acqua cambia colore mettiamo sale tagliamo e puliamo nell'acqua freddo poi mettiamo nel padella con un po di aglio olio e gingero e un po di vino bianco e limone e copriamo per 10 minuti saltiamo un po guarda ragazzi quasi pronto ha girato un po un po di acqua di cottura ecco dopo dobbiamo mettere in piatto guarda ragazzi che bello è venuto molto buono provate ragazzi questa risetta facile grazie a tutti grazie a tutti